E buonasera, buonasera al professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica e vicepresidente dell'Accademia dei Lincei. Buonasera. Buonasera. E autore di questo libro divertentissimo, eccolo qua, Gradini che non finiscono mai, scritto insieme con Pier Giorgio Paterlini, vita quotidiana di un premio Nobel. Quando l'è venuto in mente, la prima volta che ha guardato uno stormo di storni, diciamo che l'è venuto in mente che potrebbe essere utile ai suoi studi? Ma guardi, il punto è che uno è curioso, quindi noi la virtù più grande delle scienziate è quella di essere curiosi, quindi la prima domanda che ci siamo fatti è ma come fanno a muoverci in quel modo, come fanno a cambiare così velocemente posizione senza nemmeno perdersi, staccarsi perché sembra quasi che ci sia qualcuno che gli dia gli ordini. Quindi abbiamo detto, ma la prima cosa da fare è di cercare di capire come volano, dove stanno esattamente e quindi abbiamo incominciato a pensarci, ma dopo ci siamo pensati, la prima idea che abbiamo avuto di fare i studi in quella elezione sono passati vent'anni, perché le tecnologie prima non erano sufficienti. Quindi appena abbiamo trovato le tecnologie a costo relativamente basso, le macchine fotografiche digitali buone, siamo partiti. Lei dice che per un fisico teorico come lei è difficile che arrivi il momento dell'eureca? Beh, qualche volta capita, non tantissimo, ma... Beh, a lei è successo però. Eh sì. Ha messo trent'anni, ma è successo. Sì, 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 infatti quello che capita è che uno a un certo punto dice, ah, ho capito questa cosa e sono contento di averlo fatto. E quando uno ha capito di aver scoperto qualcosa di nuovo, che sensazione ha dal punto di vista, anche personale? Ma, da un lato c'è uno la fretta di raccontarla agli altri, è un po' fare un po' come il pavone, di pavoneggiarsi per aver scoperto una cosa. La prima persona alla quale ha raccontato? Ma, ai colleghi, uno racconta le cose ai colleghi perché poi capiscono quello che uno ha fatto, ma poi l'altra cosa è di una grande soddisfazione, perché questo vuol dire che le cose che uno ha fatto fino a quel momento, che le cose che sta facendo hanno portato un buon risultato. È un po' come uno riesce a finire le parole incrociate o fare un pazzo. Senta, lei da bambino non conosceva le parolacce? No, perché a casa non si usavano e poi andavo a una scuola di suore, dove ero l'unico maschio rispetto a tutte le altre bambine, perché... e quindi lì le parolacce non si dicevano. E come la trattavano le bambine? Ah, guardi... Lei era un pezzo unico. Come? Un pezzo unico lei era, nella classe. Eravamo due e poi eravamo rimasti uno solo, ma questo perché mia madre insistiva che quella scuola era vicino a casa, era comoda e così via, quindi sono rimasto lì in quella scuola, poco colato. Eh, infatti lo credo. Sua madre che disse quando lei a tre anni riconosceva prima i numeri dei traumi rispetto alle lette? Ah, non ricordo, lei mi diceva che li riconoscevo, però io non è che mi ricordo quello che facevo a tre anni, è mia madre che mi diceva che ero bravo a riconoscevi i numeri degli autobus, che diceva che arrivava il 4, il 5, il 3. Lei è un ballerino semiprofessionista? No, semiprofessionista non eserderiamo. Io ho cominciato a ballare qualcosa quasi una ventina di anni fa. Ho cominciato con prima balli di gruppo in palestra, poi sono passato a fare balli greci, cioè balli etnici in generale, e poi balli di coppia, salsa e poi adesso for rock brasiliano. Continua a ballare? E col covid mi sono un po' bloccato perché adesso dovrei riprendere. Ma era così bravo che sua moglie l'ha mollata a un certo punto? No, mia moglie, no, mia moglie ha un problema all'orecchio, non può girare, e quindi non può fare più rette, dato che tutti questi balli greci veniva anche lei, questi balli di coppia si vengono fatti girando, ma infatti una volta abbiamo provato il valser, a fare due givi di valser e a una scuola si è sentita male e non ci ha più voluto venire. Senta, ma è vero che lei ripassa i passi del ballo la sera prima di addormentarsi? Beh, questo l'ho fatto una volta, che avevamo un saggio di danza, dovevamo fare due baciate e due salse, e quindi avevamo 14 minuti di coreografia in cui non bisognava sbagliarsi. Quindi per impararsela bene a memoria, immagina anche lei, 14 minuti di passi di seguito, lì ripassavano le cose. La memoria di un fisico teorico è migliore in genere rispetto a quella di una persona normale? Beh, per certe cose, per altre no, per le cose che gli interessa di più c'è una memoria probabilmente più alta, è una memoria un po' specializzata. Senta, lei ha 13 anni, ho letto nel libro che si è vista tutta, si è guardata tutta la storia della Seconda Guerra Mondiale di Churchill, che sono sei volumi, lo so che ce l'ho pure io, ma l'ha letta? Come no, assolutamente, però non l'ho letta a 13 anni, l'ho letta un po' più tardi, insomma. Beh, a 16 anni se avevo tempo per leggerle, mi aveva molto appassionato, perché poi Churchill raccontava le cose in uno stile suo, e raccontava proprio come l'aveva vissuta la guerra, come aveva raccomandato che di notte qualunque cosa succedeva non doveva essere svegliato, tranne che nel caso fosse invasione all'Inghilterra. Solo se invasione all'Inghilterra lo potevano svegliare di notte, se no la notte non doveva essere disturbato perché doveva dormire e poi non lavorava bene di giorno. Ho scoperto che lei è appassionato di fumetti e forse siamo in due tra i pochi ad avere l'intera collezione di Linus. Eh sì, esattamente. Lei ha tutti i numeri? No, quasi tutti, qualche numero manca. Grazie anche a mio fratello che non c'è più, ma che curava con me questa collezione. Fu rivoluzionario Linus nel 65. Eh sì, me lo ricordo, che fu un cambiamento notevolissimo, perché hanno tutte cose che prima non si vedevano, i fumetti hanno una cosa completamente diversa in Italia, hanno Topolino, Rialbi della Rosa. Anche lei si è formato su Topolino, su queste cose semplici e poi insomma è salito. Eh sì, Topolino è stato importante. È vero che sua moglie riesce a far bruciare perfino il brodo? Eh, gli è capitato un paio di volte, ma il fatto è che lei si distrae, lei va a mettere il brodo, a mettere le uova a soda, poi dice mi metto a lavorare al computer e fra dieci minuti torno. Solo, ma se si mette uno, si mette a lavorare al computer e fa un'altra cosa, dopo dieci minuti non torna. Invece lei cucina benissimo. Beh, benissimo, è una grande cucina. No, i convicati sono contenti. Ecco, senta, lei però che ha girato un po' il mondo per gli studi, eccetera, trovava degli, insomma, dei simil, un simil pesto, un simil, cioè ha costruito diciamo alcuni ingredienti mediterranei anche in paesi in cui non c'erano. Sì, ma infatti una volta mi ero fissato che dovevo fare la pasta col pesto, solo il pesto a Parigi, solo che i pinoli non li vendevano. Ho comprato, non riuscivo a trovare nessuno che vendeva i pinoli, ho trovato un posto invece di pasticceria libanese che vendeva dei pasticcini con dei pinoli sopra e ho levato i pinoli dei pasticcini. Aspetta, un fisico teorico è una persona un po' strana rispetto alla media o no? Ma io penso di no, secondo lei sono strano? No, ecco bene. Però ha delle singolarità, è beato lei, i numeri a tre anni prima di imparare le lettere, la seconda guerra mondiale, che è un libro affascinante, diciamo, a 13 anni. No, devo dire che lei si è portato, devo dire, molto, molto, molto avanti, insomma. Senta, lei si è sposata a un certo punto per avere, perché sua moglie avesse un permesso di aspettativa per raggiungere il marito, quando avevate tutti e due un dottorato a Parigi. Sì, ma infatti, e all'epoca, e questo parlo del 76, fra i giovani non andava tanto di moda sposarsi, e ha considerato, adesso è tornato di moda, ma all'epoca era considerato un qualche cosa che uno, cioè che non c'era bisogno di mettere nevo su bianco una relazione fra due persone che si vorranno bene, fra due persone che si amavano. Io però avevo un posto di ricercatore a Parigi, e mia moglie voleva prendere il dottorato a Parigi, però lei era dipendente, quindi essendo dipendente statale, se ci spostavamo, poteva prendere un'aspettativa di un paio d'anni per seguire il marito, e quindi quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Senta, quando sua figlia le ha detto che amava un'altra donna, voi non avete battuto ciglio. All'inizio siamo stati un po' perplessi, poi dopo alla fine ci siamo abituati e siamo contentissimi. E loro hanno avuto un figlio? Sì, mia figlia ha avuto un figlio, e la moglie di mia figlia, anche lei ha avuto un figlio, quindi adesso è una bellissima famigliola di due mamme e due bambini. Ecco, sulla base della sua esperienza, pesa l'assenza di un padre? Ma per il momento no, io non vedo nessun problema, il bambino più grande è un bambino che si trova perfettamente a scuola, estremamente ben bilanciato, da tutto dal punto di vista affettivo, quindi non si vede nessuna mancanza. Secondo me il problema è la capacità dei genitori a gestire la famiglia, quella è la cosa più importante, e le due mamme sono state bravissime, secondo me. Allora, la scoperta di questi giorni è la fusione nucleare, che impressione l'hai fatto? Ma è un passaggio che uno aspettava da tanto tempo, è chiaro che manca ancora tanto da fare, perché adesso si parla che entro 30-40 anni si riuscirà ad avere la fusione nucleare funzionante. Certo, quando ero giovane io, si parla 50 anni fa, si riusciva a fare 50 anni. Adesso siamo migliorati... Adesso si dice altri 30. Vediamo questo servizio di Domenico Potestio sulla fusione nucleare. Per la prima volta in un laboratorio della California, il test sulla fusione nucleare ha fornito più energia di quella necessaria per produrla. È la segretaria al Dipartimento USA dell'Energia, Jennifer Granholm, a dare l'annuncio della svolta scientifica dirompente, che promette in un futuro prossimo energia sicura, pulita e di fatto inesauribile. I fisici del Federal Lawrence Livermore National Laboratory hanno impiegato la potenza di 192 fasci laser puntati su un contenitore cilindrico forato e lungo alcuni centimetri. Penetrando attraverso i fori del cilindro, i fasci laser hanno colpito la parte interna del contenitore, dove è collocato il combustibile. In sostanza si tratta di atomi di idrogeno che, sottoposti a temperature e pressioni estreme, creano uno stato della materia noto come plasma. Gli atomi si fondono e rilasciano grandi quantità di energia. È di fatto un processo molto simile a quello che alimenta il Sole e le altre stelle, ed è per questo che non è esagerato descriverla come una delle più grandi sfide dell'umanità. Ci vorranno almeno 30 anni, perché la fusione nucleare passi dall'essere una tecnologia sperimentale a una fonte di energia economicamente conveniente. Una previsione che vale sia per la fusione con i laser, cosiddetta a contenimento inerziale, così come per la fusione a confinamento magnetico, ottenuta con il reattore ITER in costruzione nel sud della Francia. Nel caso del confinamento inerziale, serviranno laser più efficienti e una produzione di massa degli elementi di combustibile. Infine, bisognerà migliorare gli impianti che servono a convertire l'energia prodotta dalla reazione di fusione in elettricità. Ma la fusione nucleare disegna un futuro che vedrà un forte ridimensionamento del peso dei paesi oggi ricchi di combustibili fossili e la fine dell'incubo per i rischi causati dalle centrali nucleari, che oggi producono energia con la fissione. Come si fa? Si dice, lei diceva ai suoi tempi, c'erano 50 anni, sono arrivati, adesso ne ho ancora oltre 30. Come si fa a calcolare questo tempo? Ma si fa a occhio, facendo ad occhio si sbaglia. Cioè, è chiaro che nessuno può fare le previsioni veramente a 50 anni, perché a 50 anni non c'erano percorsi tipo i computer portatili, non c'erano, quindi tutto il sviluppo dell'elettronica non era nemmeno immaginabile. Quindi è possibile anche arrivare prima di 30 anni, insomma. Sì, prima o dopo. E' chiaro che ci sono, uno più o meno ha visto nel passato come le tecnologie sono migliorate e qui a questo punto ci sono vari problemi sulle tecnologie a migliorare enormemente il tipo, il modo in cui viene prodotta la luce con l'arse e poi ci saranno tutte le sue problemi, perché una volta che poi si riesce in maniera stabile a avere un sistema che produce più energia di quanto viene messa e poi bisogna fare tutta la parte di industrializzazione, perché è una cosa fare un motore di una motocicletta, è una cosa fare un motore di una nave. Certo. Senta, lei è uno specialista di sistemi complessi, che non significa sistemi complicati, le dice. Per esempio, un vetro è più complesso di un aeroplano. Perché? Ma guardi, l'aeroplano è un sistema complicato perché c'è un progettista che ha progettato tutto, quindi sono i progetti, ci sono i veri, un aeroplano sarà composto da un milione di pezzi differenti, però se uno guarda i piani di costruzione, quelli uno li può vedere bene, vedere che cosa succede. I sistemi complessi sono i sistemi naturali che in qualche modo si comportano da soli in maniera strana. E per esempio, una delle cose tipiche che il vetro fa è una cosa completamente diversa da quella dell'acqua. Se lei prende quest'acqua e la ghiaccia, a un certo punto all'improvviso diventa ghiaccio. Cioè, c'è un momento preciso. Se lei prende, per esempio, uno lo ha visto tante volte, il vetro e l'uno incomincia a raffreddare, quello incomincia a diventare un pochettino più duro, un po' più passoso, sempre più passoso, però non c'è un momento in cui diventa a vetro da liquido. Lo stesso, la cera della candela, prima scuove più velocemente, poi scuove più lentamente, a un certo punto diventa sempre più resistente a spingerla, fino a che poi non si deforma più. Quindi è un comportamento completamente diverso da quello dell'acqua o di altri liquidi. Che si è cucinato per festeggiare il premio Nobel? Che abbiamo cucinato? E guardi, non abbiamo fatto molto, perché era un momento in cui c'era un po' di cazzino con il Covid, e quindi alla fine abbiamo andato dopo una settimana a casa di mio figlio, che ci ha preparato una cena a lui. Quindi non ha cucinato lei? No, no, ma si figuri, quei giorni sono stati giorni faticosissimi. E me l'immagino. Il piatto che le esce meglio qual è? Ma sono varie, ho brassato, cose classiche, tipo ho brassato il barolo, ho risotto con gli scampi, ho risotto la melanesia, il vecchio stile. E il ballo che sa fare meglio qual è? Ma guardi, forse è l'ultimo che ho provato, forse è il foro, quello che faccio meglio, perché le danze greche negli ultimi anni mi sono un po' meno esercitato. Complimenti, professor Parisi. Grazie. Allora, vita a tutti.